Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 variante, 3 km di coda verso nord per veicolo fermo o in avaria tra Badia e B1 variante. Sempre in A1 per incidente in direzione di Roma, 1 km di coda tra Firenze in Pruneta e Firenze sud. In A11 restano rallentamenti e code per traffico verso Firenze, tra Prato Oeste e il Bibo con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. Qualche problema in FIPILI restano 6 km di coda per veicolo fermo o in avaria tra Ginestra e Scandicci per chi viaggia verso Firenze. Coda per incidente per 1 km anche in carreggiata opposta tra Bibo di Ramazione Pisa, SGC, FIPILI e Cascina. Prima di salutarci ricordiamo lo sciopero di quest'oggi con possibili ripercussioni anche sul trasporto pubblico locale della Toscana. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.